Il Corradini proprio lui, incredibile autorete di Corradini, il gol del tretto che porta in vantaggio, il gol del tretto appunto che si porta in vantaggio con l'errore di Corradini in passaggio di Ierizzo per il numero 6, che era convinto di servire nuovamente il portiere quantomeno. Il Corradini proprio non aveva ripreso posizione, il gol da Zalapas Band, il vero senza parola, subito i giocatori della Provercelli a rincuorare.